Musica Misernia maglia nera in Italia per la percentuale di pazienti dimessi dagli ospedali fuori dalla regione di residenza e quindi costretti a farsi curare lontano da casa. Campobasso occupa il quarto posto di questa poco lusinghiera graduatoria. Lo rivela la classifica del sole 24 ore che ha pubblicato l'Indice della Salute 2019. Mercoledì alle 19 a Campobasso in piazza Municipio il comizio del Movimento 5 Stelle con il ministro della difesa Elisabetta Trenta. Stasera alle 21 a fuoco incrociato l'intervista realizzata da Teleregione a Silvio Berlusconi. Clamoroso a Isernia l'ex assessore regionale Carlo Veneziale presenta querela in procura contro il sindaco d'Apollonio e contro i gnoti per la movida molesta nel centro storico. Amministrative Gravina attacca la politica di centrodestra e di centrosinistra il Roxy di Campobasso simbolo del loro fallimento. Tour Molisano per i popolari per l'Italia prima a Campobasso poi a Isernia e Termoli alla presenza dell'euro parlamentare Mario Mauro stoccata di Vincenzo Niro ai 5 Stelle ho preparato pure le liste su Saturno e sul voto disgiunto dice schiaffo alla democrazia. Infine i motori Fabio Emanuele si aggiudica il Memorial Gianluca Battistini, il driver Molisano conferma la sua leadership nella classifica tricolore. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in apertura, l'avete sentito dai nostri titoli, c'è la sanità con Isernia maianera in Italia per la percentuale di pazienti dimessi dagli ospedali fuori dalla regione di residenza e quindi costretti a farsi curare lontano da casa. Campobasso occupa il quarto posto di questa poco lusinghiera graduatoria. Allora rivera una classifica del sole 24 ore che ha pubblicato l'indice della salute 2019 e allora vediamo i dettagli di questo traguardo poco positivo per il Molise nel servizio di Nicola De Santis. Isernia è la provincia italiana con il maggior numero di posti letto in rapporto alla popolazione. Il capologo Pentro di Contro fa registrare il più alto tasso in percentuale di utenti che si spostano fuori provincia per farsi curare. Lo rivela una classifica del sole 24 ore stilata attraverso l'incrocio di 12 indicatori. La graduatoria finale deriva dalla media dei punteggi ottenuti dai vari territori nei singoli indicatori rappresentati sulla base di tre aspetti fondamentali della salute. Performance demografiche registrate negli ultimi anni come l'incremento della speranza di vita, i fenomeni sociosanitari, ad esempio la mortalità annua per tumore o per infarto ed il consumo di farmaci, i livelli di accesso ai servizi sanitari, dall'immigrazione ospedaliera alla disponibilità di posti letto e di medici. Per il quotidiano economico Bolzano è la provincia più sana d'Italia, seguita da Pescara, Nuoro e Sassari. Le province peggiori sono invece Rieti, Alessandria e Rovigo. Campobasso e Sernia occupano rispettivamente il 57esimo posto ed il 53esimo posto, esattamente a metà classifica. In generale i dati migliori arrivano da Trentino, Sardegna e Lombardia. In fondo alla graduatoria troviamo Lazio, Basilicata e Campania. Per quel che concerne il tasso di mortalità calcolato al netto di fattori distorsivi, come l'età media della popolazione, il capologo molisano tiene il 32esimo posto. Isernia si colloca a 5 posizioni più in basso. Questa speciale classifica è guidata da Pordenone, mentre le province di Napoli e Caserta occupano gli ultimi due posti. Anche nella mortalità per tumore, i due capologi molisani si attestano intorno al 30esimo posto. Sassari la provincia più virtuosa, Alessandria la peggiore. Male, Campobasso e Isernia per la mortalità legata all'infarto. 81esima posizione per il capologo di regione, 89esimo posto per quello di provincia. Anche per l'aspettativa di vita calcolata però dalla nascita, il Molise agli ultimi posti della graduatoria nazionale. Quintultimo posto per Isernia, 88esimo per Campobasso. Ottimo invece il piazzamento per quel che concerne la disponibilità dei medici di base ogni 1000 abitanti. Isernia, in questo caso è quinta in classifica, Campobasso ottava. È dalla mobilità sanitaria però che arriva il dato più allarmante. Per il quotidiano economico, infatti, la provincia di Isernia fa registrare il dato peggiore in Italia, ovvero la percentuale più alta in assoluto di dimissioni ospedaliere avvenute fuori regione. Non va meglio per la provincia di Campobasso, al quarto posto di questa poco lusinghiera graduatoria. Stiamo a Isernia, clamoroso, l'ex assessore regionale Carlo Veneziale presenta quarella in procura contro il sindaco Giacomo D'Apollonio e contro i gnoti per la movida molesta nel centro storico. Ancora Nicola De Santis. Una notizia, per certi versi clamorosa, proviene da Isernia, dove l'ex assessore regionale Carlo Veneziale ha presentato un esposto in procura contro il sindaco e verso i gnoti. Questa volta la politica non c'entra. Veneziale, infatti, si è rivolto al procuratore di Isernia per la movida molesta nel centro storico dove risiede. Quasi ogni notte, con particolare intensificazione del fenomeno durante il periodo estivo, durante il fine settimana e nei giorni prefestivi, ha scritto l'assicuratore Isernino nell'esposto. Diverse persone, in particolare giovani, si radunano in piazza 10 settembre, e più nello specifico sui gradini che circondano il monumento alle vittime del bombardamento. Intrattenendosi fino alle prime ore del mattino, tengono ogni tipo di comportamento non consono alle regole della convivenza civile. Urlano, diffondono attraverso il telefonino musica ad alto volume, imbrattano con scritte e disegni i muri degli edifici circostanti, urinano e vomitano per strade, sui muri e sui gradini degli edifici, consumano bevande alcoliche, raggiungendo un palese stato di ubriachezza. Per Veneziale, dunque, si ravvisano evidenti profili di rilevanza penale, tali da richiedere l'intervento delle autorità competenti. L'ex assessore chiede alla procura di indagare contro i gnoti per atti contrari alla pubblica decenza, per atti osceni, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, danneggiamento, ubriachezza, molesta e per tutti quei reati che dovessero emergere nel corso delle indagini. Carlo Veneziale ha chiesto inoltre di verificare se vi siano comportamenti omissivi di rilevanza penale o amministrativa da parte del sindaco d'Apollonio e o dei responsabili degli uffici preposti dell'azienda sanitaria locale, in merito al mancato rispetto nel centro storico delle condizioni igienico-sanitarie necessarie per la tutela dell'incolumità e della salute dei cittadini. L'ex candidato governatore del centro-sinistra si è riservato di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni materiali e morali subiti in conseguenza delle condotte precedentemente descritte ed ha chiesto che la procura intervenga nella maniera più celere possibile nei confronti di eventuali responsabili per evitare ulteriori e ben più gravi conseguenze. Andiamo a Venafro dove un indiano si cosparge di benzina in minaccia di darsi fuoco. È accaduto questa mattina davanti Palazzo Cimorelli. State vedendo alcune immagini. L'uomo salvato dall'intervento dei carabinieri che lo hanno immobilizzato e reso inerme. L'indiano pluripregiudicato e quindi già conosciuto dalle forze dell'ordine chiede assistenza all'amministrazione comunale. Ed ora l'ampia pagina dedicata alle elezioni. Mercoledì alle 19 a Campobasso in piazza Municipio il comizio del Movimento 5 Stelle con il ministro della difesa Elisabetta Trenta. Intanto Gravina attacca la politica di centrodestra e di centrosinistra. Il Roxy ha detto questa mattina nel corso di una conferenza stampa il simbolo del loro fallimento. Sentiamo i dettagli nel servizio. Dopo i ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini mercoledì sarà il turno della titolare della difesa Elisabetta Trenta. Attesa in piazza Municipio alle 19 l'esponente del governo a sostegno dei candidati alle europee del Movimento e del candidato sindaco Roberto Gravina che continua ad attaccare la politica. Questa volta le bordate del giovane avvocato Campobassano sono bipartisan. L'incontro con la stampa davanti alla Roxy una volta punto di riferimento della Campobasso Bene ora ricettacolo di senza tetto e tossici. Il simbolo dice Gravina del fallimento della politica di centrodestra e centrosinistra. Il degrado imperante abbiamo tentato in tutti i modi come consideri di minoranza di risolvere questo problema dapprima chiedendo una messa in sicurezza dell'area, un controllo perché sappiamo che purtroppo è preda di persone che gravitano intorno all'area non certo per fare del bene a questa città e sin dal 2016 dicevo abbiamo tentato in tutti i modi di sollecitare l'amministrazione, nulla è stato fatto dall'amministrazione Battista perché questo. Va ricordato che il sindaco è colui che è responsabile per la sicurezza e per il decoro della città e quindi ci saremmo aspettati che lui in qualche modo imponesse alla regione di adottare dei provvedimenti. solo con il cambio del governo regionale quindi con l'avvento di Donato Toma per la prima volta hanno risposto dicendoci che avrebbero emesso eventualmente un'ordinanza di demolizione diffidando la regione, non abbiamo traccia però né dell'ordinanza né di una successiva diffida. Va ricordato anche che c'è stato un impegno sia di Paolo di Laura Frattura all'epoca governatore con l'incendio, 5 anni fa aveva promesso la demolizione, nulla è stato fatto, stesse dichiarazioni da parte di Donato Toma, insomma credo che lo stato in cui versa il Roxy, l'ex hotel Roxy sia sotto gli occhi di tutti è il simbolo del degrado e del fallimento appunto di una politica di oltre 20 anni. Ex hotel di lusso acquistato dalla regione dall'ex governatore Michele Iorio, poi 5 anni fa l'incendio, la promessa di Frattura di farlo abbattere, rinnovata da Toma, appena insediato ma il Roxy è sempre lì per mandarlo giù, occorrono quasi 3 milioni di euro. Gravina è pronto in caso di affermazione a ordinare la demolizione in danno della regione e a ridare splendore ad un luogo che potrebbe fungere da corridoio verde. Le priorità demolizione dello stabile poi? Sicuramente questo è un primo atto che verrà fatto, verrà ordinata la demolizione dopo una risistemazione dell'aria, chiaramente sulla base di quelle che sono le risorse disponibili ma soprattutto nel nostro programma come proposta abbiamo intenzione di rivalutare Villa de Capua che è stata abbandonata, non ci traccia di nessun atto in 5 anni di amministrazione battista e di partire da qui per creare un parcheggio interrato, chiaramente d'accordo con la regione anche attivando un project financing per poi ricollegarlo come un corridoio verde ideale fino alla parte universitaria e scendere allo scarafone via Ungaretti. La campagna elettorale al rush finale, questa sera sotto le regioni ancora un approfondimento dedicato alle europee, a partire dalle 21 fuoco incrociato proporrà infatti altri contributi sul voto del 26 maggio, fra questi l'intervista integrale che abbiamo realizzato al Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli a Roma, la sua residenza romana. Inoltre l'intervento in studio di Mario Mauro, capolista dei popolari per l'Italia, non perdete dunque l'appuntamento con fuoco incrociato questa sera alle 21 su Teleregione. E domani alle 17.30 il candidato sindaco del centro-sinistra Antonio Battista accoglierà nel comitato elettorale di Piazza della Vittoria il vice segretario del Partito Democratico Paola De Micheli. Restiamo alla politica, parliamo del tour molisano dei popolari per l'Italia con le stoccate di Vincenzo Niro, ho preparato pure le liste su Saturno, ha detto Niro replicando al Movimento 5 Stelle sul voto disgiunto, ha detto è uno schiaffo alla democrazia. Sentiamo Cristina Niro. Un tour elettorale partito dalla costa, Termoli terminato a Campobasso con il Gran Pienone a Centrum Palace. La lista dei popolari per l'Italia ha promosso intanto in regione la candidatura del parlamentare europeo Mario Mauro, ex ministro della difesa del governo Letta e candidato Capolista nella circoscrizione 4 Italia Meridionale, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, che sull'Europa e sul Mezzogiorno ha le idee chiare. Noi dobbiamo pretendere che l'Europa cambi i connotati del suo progetto riprendendo la strada di quel percorso federale, di quegli stati inuti d'Europa che hanno caratterizzato fin dall'inizio la volontà dei padri fondatori. Questo metterà il sud di essere in condizione di giocarsi alla pari il proprio destino e il proprio futuro e soprattutto consentirà l'utilizzo delle risorse europee in un modo più congruo di quello che c'è stato fino ad oggi, che è stato un modo caratteristico di una classe di dirigente preoccupata più della rendita politica che non del destino di una generazione. Il partito di Vincenzo Niro è poi passato al programma e ai candidati in corsa invece per le amministrative a Termoli, con il sostegno a Francesco Roberti, grazie a ben due liste Popolari per l'Italia, appunto, e la seconda, Diritti e Libertà. Due liste a Termoli e 32 nomi in corsa a Campobasso, un duro e lungo lavoro che non ha risparmiato però a Vincenzo Niro qualche attacco dagli antagonisti. I colleghi di 5 Stelle non sono ben informati perché io a Marte già ho costruito la lista per le prossime politiche, sono passato già su Saturno. Risponde allo scherno con la necessaria ironia, poi come nel suo stile replica muso duro, ricordando che i nomi da scegliere per ricostruire ruoli di responsabilità rispetto al bene comune non è mero pressappochismo e banale riempimento di caselle. Mi va di fare una riflessione, se una persona fa delle liste e non mette nome e cognome giusto per riempire i 32 caselle, se una persona riesce a fare delle liste competitive, delle liste con qualità, delle liste con persone competenti, con gente volenterosa, professionalmente preparate, è perché probabilmente alla base c'è un progetto politico credibile, sostenibile e soprattutto che guarda a un unico aspetto, al bene comune, quel bene comune che molti lo usano come slogan soltanto in queste circostanze ma che all'indomani del risultato elettorale guarda caso, cambiano telefono, cambiano modo di vivere e cambiano anche modo di ascoltare le persone. L'arrivo a Campobasso è caloroso e la sala è gremita, ci sono tutti, c'è ovviamente la candidata sindaca del centro-destra, Maria Domenica D'Alessandro, il governatore, i consiglieri regionali Andrea Di Lucenti e Antonio Tedeschi e ci sono loro i 32 candidati, tra cui Corrado Di Niro, inizialmente papabile, candidato sindaco, Salvatore Colla Giovanni, assessore al commercio con Battista e Chiabattista ha detto no, restituendo la delega quando i modi di lavorare non combaciavano più. C'è Francesco De Bernardo e ci sono i consiglieri, Carla Fasolino, Pietro Montanaro, Francesco Sanginario, Antonio Molinari, Antonio Di Rienzo e Antonio Columbro. C'è anche Giuditta Lembo, una lunga esperienza alle pari opportunità. E poi ci sono le nuove leve, ognuna con proprie caratteristiche e capacità. L'ipotesi ballottaggio viene continuamente esorcizzata, Vincenzo Niro lo ribadisce a più riprese. E non è soltanto una questione di allungare i tempi e spendere altre risorse, è che il cittadino non deve permettere l'inganno del voto disgiunto. Allungare di 15 giorni una vittoria già visibile credo che perderemo, impegheremo tante altre, spenderemo tante altre risorse, impiegheremo tanto altro tempo, dilazioneremo soltanto un percorso. Ma credo che la vittoria al primo turno, sapendo di buttare nel cestino della carta quelli che vogliono utilizzare il voto disgiunto, la più grande negazione della democrazia, la più grande cattiveria che il legislatore volle fare per cercare di scompaginare le alleanze. Questo non fa bene alla nostra nazione, non fa bene al nostro comune, lo abbiamo dimostrato con le elezioni regionali. Il voto disgiunto, l'eliminazione del voto disgiunto ha fatto sì che si eleggesse un presidente collegato a quella coalizione, non un presidente o un sindaco diverso. Eleggere un sindaco diverso pensando di rifugiarsi dietro il voto disgiunto significa che quelli che hanno firmato un patto di partito, un patto di lista civica, un patto di coalizione stanno mandando loro stessi. L'europarlamentare del Partito Democratico, Andrea Cozzolino, ha raggiunto la sede di Antonio Battista, candidato sindaco al secondo mandato dell'Europa, ha detto un pacchetto di riforme per indirizzare più risorse al mezzogiorno. Ancora Cristina Nero. Onorevole Cozzolino, allora l'Europa è una chance per l'Italia e soprattutto per il mezzogiorno, in che termini può esserlo? Perché grazie alle risorse europee noi abbiamo ogni sette anni decine e decine di miliardi che utilizziamo per politiche di sviluppo e di crescita dei nostri territori, per finanziare la nostra agricoltura, per sussidiare le nostre università nel campo della ricerca e dell'innovazione, per incentivare le nostre imprese, per difendere i nostri prodotti agricoli sui mercati nazionali e internazionali, per dare una capacità in termini di formazione alle nuove generazioni. Per fare tutte queste cose abbiamo bisogno di ingenti risorse che il bilancio comunitario assegna alle regioni del mezzogiorno, per questo abbiamo bisogno di un'Europa in grado di rispondere a queste esigenze e la battaglia dei parlamentari europei non è una battaglia astratta, è per strappare queste risorse e portarle nel nostro mezzogiorno. Perché può farlo il PD? Perché lo stiamo facendo, perché abbiamo condotto una battaglia nel Parlamento europeo, per esempio su come distribuire le future risorse, abbiamo fatto una battaglia per introdurre criteri di qualità come il tema della disoccupazione giovanile e questo ha comportato lo spostamento di ingenti risorse dall'est dell'Europa al sud dell'Europa e dunque come si vede poi la battaglia prevede anche uno scontro molto aperto con altre comunità, con altre realtà. Qui noi abbiamo un paese guidato da un accordo di governo tra Lega e 5 Stelle e la Lega discute molto con questi paesi dell'est, ma con questi paesi dell'est bisogna discutere avendo un pugno fermo e avendo anche molta determinazione. Si può stare in Europa condividendo comuni rischi e comuni opportunità, non possiamo dare decine di miliardi ogni anno a Polonia, Ungheria o Romania e non ricevere in cambio una disponibilità quando abbiamo le grandi sfide come Europa e dunque anche per questo il PD è in condizione di poter condurre questa battaglia. E a Termoli il Partito Democratico ha presentato la lista che andrà a sostenere la candidatura del sindaco uscente Angelo Sbrocca per il segretario del PD Vittorino Facciolla. Sbrocca rappresenta l'unica scelta percorribile tra quelle proposte. Sentiamo Giovanni Cannarsa. Quella di Angelo Sbrocca è l'unica scelta percorribile in questa consultazione. Lo ha detto il segretario regionale del PD Vittorino Facciolla a Termoli in occasione della presentazione della lista elettorale che sostiene la candidatura del primo cittadino uscente. Con Sbrocca e Facciolla è intervenuta anche l'ex parlamentare Laura Venitelli che ha parlato ampiamente del rilancio del PD che presenta i nastri di partenza tra le sue fila l'ex assessore uscente Pino Gallo e i consiglieri uscenti Antonio Candra e Oscar Scurti insieme al presidente del Consiglio Comunale Manuela Vigilante. È un'ottima lista, lista composta da parte degli uscenti e devo dire anche da parte di neocandidati in assoluto, molto equilibrata anche nel rapporto di genere, fatta da professionisti ma anche da operai, da operatori del settore del commercio. È una lista che si presenta a queste ormai prossime elezioni potendo e sapendo far bene. Quale sarà la proposta del sindaco uscente Angelo Sbrocca in prospettiva futura? Mi sembra che Angelo Sbrocca abbia l'unica proposta spendibile, non me ne vogliono gli altri candidati e questo sta emergendo in maniera lapalissiana in quest'ultimo periodo, in questa coda di campagna elettorale. Tutti hanno seguito anche i confronti televisivi e devo dire anche il battaggio pubblicitario che c'è stato sui temi, non mi sembra che gli altri abbiano grandi temi. Mi sembra che Angelo manifesti bene questa esigenza di continuità rispetto al rigore di scelte amministrative che fanno di questa città una città europea, moderna, capace di guardare al futuro. La proposta degli altri, devo dire francamente, non è una proposta. Da una parte ce n'è una antagonista e fine a se stessa, dall'altra devo dire francamente mi sembra più la manifestazione di un'approssimazione da una parte, quella del centro-destra, dall'altra è una manifestazione di un continuo livore. Ma al di là di questo ritengo che vi sia una differenza, non me ne voglia nessuno siderale nella qualità che esprimono i candidati. Per Vittorino Facciolla le amministrative rappresentano indubbiamente un test per il Partito Democratico. Noi siamo in una fase, lo dico sempre, ancora anticiclica. Noi abbiamo speranze aspettative che ci si muova in direzione di nuovo ciclica a un aumento di qualche punto percentuale. L'impegno e la serietà con la quale stiamo affrontando questa campagna elettorale va in quella direzione, non in una direzione diversa. Lo facciamo con gli strumenti che sono tipici del Partito Democratico, anche con una evidente serietà nella proposta. E da Termoli la rete della sinistra con il candidato sindaco Marcella Stumpo ripulisce l'area di Pozzo Dolce, la zona interessata dalla riqualificazione urbana e dalla realizzazione del tunnel ancora a Cannarsa. Si sono ritrovati nella zona simbolo della campagna elettorale che si sta svolgendo a Termoli, nel posto in cui dovrebbe sorgere il tunnel di collegamento tra il porto ed il lungomare nord Cristoforo Colombo. L'area di Pozzo Dolce attualmente lasciata nel degrado più assoluto è vera e propria terrazza e riva al mare, dove la riqualificazione urbana voluta dal sindaco Angelo Sbrocca ha letteralmente diviso in due la città adriatica. Tra coloro che hanno combattuto fin dall'inizio questa iniziativa c'è anche la rete della sinistra che insieme al candidato sindaco Marcella Stumpo si è ritrovata in zona per cercare di ripulire l'intera area e lanciare un segnale ben preciso. Abbiamo deciso di uscire accompagnati anche dal tempo stavolta per ripulire simbolicamente quest'area che è stata volutamente abbandonata al degrado e per esporre anche sia il materiale che avevamo già prodotto su tutte le aree degradate pubbliche, ci tengo a precisarlo di termoli lasciate nel degrado oltre a questa, sia per fare una breve carrellata di immagini di come veramente si può riqualificare anche con costi molto limitati un'area verde. Quindi vuole essere un'azione chiaramente dimostrativa perché non possiamo porre fine a questo degrado. ma per dimostrare che questo è il centro diciamo di quella che è stata la svendita della città e quindi al di là del mio e quello di tanti miei candidati per il tunnel venire qui significa anche rivendicare che noi non consideriamo persa la battaglia. Noi vogliamo impedire che qui nonostante tutte le menzogne che il sindaco continua a ripetere qui si tratta di costruire 115.000 metri cubi di cemento che arriveranno ad un'altezza che copre quasi la chiesa di Sant'Antonio, qui regaliamo ad un privato un ettaro di terreno come si può vedere nella zona più bella di Termoli, noi non vogliamo che questo scempio venga compiuto. Quale potrebbe essere una controproposta per rilanciare questo salotto in riva al mare? Allora sicuramente qui non è che non si possa pensare ad un parcheggio perché oggettivamente in alcuni periodi dell'anno il problema dei parcheggi c'è, si può riqualificare questo parcheggio esistente a un piano solo, contemporaneamente fare di questo un giardino verde, un parco attrezzato per la città dove veramente potrebbero essere piantati alberi perché con un parcheggio di un solo piano sarebbe possibile veramente fare una riforestazione con essenze autoctone quindi sia a basso costo sia indicative dell'identità geografica del luogo. Mentre quello di cui parla il sindaco, la villa comunale con gli alberi potrebbe avere siano delle aiuole perché verrebbe fatta sulla copertura di un enorme mostro di cinque piani di parcheggio quindi anche questa è una delle tante menzogne. Eliminando la struttura che vediamo adesso con queste piastrelle degradate, questi muretti coperti di graffiti si può facilmente come si vede anche nelle immagini che abbiamo portato recuperare un'area verde che davvero può diventare il simbolo di quella città giardino che Termoli dovrebbe essere. Capiamo argomento per approfondire le ultime scoperte nello studio e nella cura dell'epilessia il Neuromed ha promosso due giorni di incontri dal titolo con il patrocinio della Lega Italiana contro l'epilessia e della Società Italiana di Neurologia. Nicola De Santis. Il Neuromed ha affrontato dal punto di vista clinico, chirurgico e scientifico l'epilessia del lobo temporale che rappresenta anche una delle forme più frequenti di epilessia ed è quella maggiormente rappresentata nelle casistiche di chirurgia dell'epilessia. Obiettivo della due giorni di lavoro è approfondire le ultime scoperte nello studio e nella cura di questa particolare patologia. L'evento è stato promosso con il patrocinio della Lega Italiana contro l'epilessia e della Società Italiana di Neurologia. L'epilessia del lobo temporale è forse la forma di epilessia focale più frequente nell'adulto e anche quella che troviamo di più nelle serie chirurgiche dove si tratta chirurgicamente i pazienti che non rispondono alla terapia medica. Per cui conoscere bene questa forma di epilessia è molto utile proprio ai fini anche terapeutici. Il lobo temporale è una struttura che consente anche molte speculazioni da un punto di vista scientifico. La si può approcciare tanto da un punto di vista genetico molecolare, da un punto di vista neurofisiologico e anche clinico, quindi una sorta di laboratorio di neuroscienze. Il workshop ha focalizzato l'attenzione sull'approccio multidisciplinare con una approfondita discussione sugli aspetti di genetica e biologia molecolare, di semiologia clinica e di terapia farmacologica. Ampio spazio è stato poi riservato alla terapia chirurgica, sia di tipo resettivo, ovvero quando la zona interessata può essere asportata, sia di tipo palliativo, mediante la tecnica della neurostimolazione vagale. La sequenza terapeutica prevede sempre prima l'utilizzo di farmaci. Laddove spesso in questa forma di epilessia accade bisogna assolutamente verificare la possibilità che un intervento chirurgico che rimuova le strutture cerebrali responsabili di crisi del paziente si possa eseguire, perché questo assicurerebbe in molti casi la guarigione. In casi dove nemmeno questo è proponibile, sono casi epilessie più complesse, la neurostimolazione in sé è una procedura palliativa che comunque difficilmente ottiene la guarigione del paziente, ma può migliorare molto la frequenza delle crisi e in ultima analisi la qualità della vita. Bene, questo era il nostro ultimo servizio. Ora vediamo che tempo farà domani sulla nostra regione con il nostro meteo. Termoli 14.22, Venafro 11.22. Bene, tutto con questa edizione. La nostra informazione torna questa sera alle 19.30 con la collega Valentina Ciorlante. Restate con noi tra pochissimo la pagina sportiva, motori e volley. Lo sport in apertura, i motori, vincitore sulle strade di casa e sempre più al vertice della classifica del campionato italiano di autoslalom. Fabio Emanuele, il driver della Campobasso Corse, ha fatto sua l'edizione 2019 del Memorial Battistini, missando l'esploane la prima prova del circuito tricolore, il Torregrotta Rocca Valdina in Sicilia. Decisiva per il pilota del capoluogo di regione la seconda ascesa. Sono stati 90 complessivamente gli allineati al via della competizione organizzata dall'ACI, valida anche per il circuito continentale dell'Europa centrale. Per Emanuele il successo sulla strada di casa della Gildonese mancava da sette anni. L'ultimo era arrivato nel 2012. Ed ora il volley con un triplice 25-15. L'F Sport Isernia ha superato nella finale regionale per il titolo di under 18 femminile la nuova pallavolo Campobasso. Arrivate alle Final Four ospitate ieri al Palafraraccio con i galloni della grande favorita per il 6-1 Pentro. Una prova d'insieme di tutto rilievo con qualificazione per le finali nazionali che si svolgeranno a Bivo Valencia dal 4 al 9 giugno prossimi. Bene, tutto anche con la pagina sportiva. Sport che tornerà anche questa sera. Grazie intanto per averci scelto e arrivederci.